Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video, io sono Screamersho30 Oggi sono qui su destitutamente bellica l'episodio numero 2, come abbiamo capito dall'episodio precedente ovviamente Vi dico solamente che una certa Ana Bray, praticamente che è una cacciatrice pure lei come il sottoscritto ragazzi miei Praticamente ha infanto una regola dei guardiani, una regola tra le tante di seguito, che è quella di non scoprire il proprio passato Però la nostra caramichetta si è infischiata altamente, si è infischiata altamente e l'è andata su Mercurio, su Marte per scoprire la mente bellica Praticamente per usare la sputina e per capire che se si può usare questa la sputina che è l'arma più potente di tutto il sistema Da usare le numeri nella giusta Ma Zavala si rifiuta E noi ultimi, e però un pochettino sta cercando di farli un pochettino cambiare l'idea Non si sa ancora, però è ancora tutto a scoprire Guarda se per questo ci vuole il 330 di potere luce Per fortuna, non mi piace, sono arrivato, aspetta no, co-co-co-co-cosa Ok Oh mamma Va bene Addirittura durante l'assalto di Gaul Come detto Oh mamma Eh ma C'è uno da quella parte, risolviamo in giù Ok il problema è risolto, no 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 Ecco Ce l'ho fatta? Non ci credo Accoccia Vedi come Eh proviamo Non è qualcosa di difficile C'è Mi sa che Non ho un brutto presentimento Ecco la canata Non ho un brutto presentimento Da quella parte Quanto? Oh mamma Ho rischiato davvero grosso Dicho Dicho Scappa Dai avvicinati Avvicinati Bravo Mamma mia Che difficoltà Grazie a tutti I animali D'accordo Eccoti Oh cavolo Oh mamma Oh no Oh no Ma 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 perché Si creano più furbi di me Solo perché si mettono l'invisibilità Non mi fanno l'invisibilità Come non tocca Guarda come non tocca Guarda vi vedo lo stesso Dai avvicinate Grazie a tutti Bravo cagnolino Ok Ok Una piccola Una piccola grotta Oh mamma 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 No, quello è il frammento di cristallo di sicuro, ok, sono sedi, ho una barriera adesso, prova a spanzionare dai. Lo vedo. Ah, qua sono messo male, abbastanza. No, 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 so viva ancora, non ci credo. Ah, ecco. Però tutto questo effetto sonoro. No, è qualcosa di... l'appademia è molto bello, molto bello. No. 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 e mangio quello che ho detto la libertà foto apriamo capello si e subito cortesemente un posto poterlo subito immediato questa appunto ma imbecille perchè ha distrutto cosa da me a la volta la mente bellica ti ha ascoltato la sapresti gestirne le conseguenze se non lo facessi guardia metti al sicuro il frammento del viaggiatore e dono la sua parte è arrivato il momento di affrontare ok la cosa è abbastanza inquietante sinceramente guardia di affrontare la divinità la mente bellica dai siamo già arrivati alla fine dell'episodio dai spero che duri ancora a me mi metto le puntate però 340 sono di 10 di potenza inferiore però vale la pena rischiare ma penso di no penso di no vabbè ragazzi che dire io per il momento il video posso anche concluderlo qua spero che vi sia piaciuto iscrivetevi al canale se l'avete già fatto commentate mettete like e noi ci vediamo al prossimo video bella